I giovani sono portatori di speranza e di energie per il futuro, ma sono anche vittime della crisi morale e spirituale del nostro tempo. A pochi giorni dal suo viaggio apostolico in Corea del Sud, in occasione della stessa giornata della gioventù asiatica, Papa Francesco chiede di essere accompagnato con la preghiera in questa visita e lo fa con un videomessaggio ampiamente ripreso dai media di Seoul. In modo incisivo e semplice, il Pontefice ricorda che solo in Gesù troviamo la salvezza e che il Figlio di Dio ci invita ad accogliere la sua luce per rifletterla in una vita piena di fede, di speranza e di amore. Tra le parole di Papa Bergoglio, che sarà in Corea del Sud tra il 13 e il 18 agosto prossimi, anche il valore insostituibile degli anziani, garanti del passato e del futuro di una società.